Il Tar smentisce se stesso e blocca la sospensiva di qualche giorno fa che aveva congelato il verdetto del Coni che a sua volta aveva lasciato la serie via 19 squadre. Una mossa che prende in contropiede Frattini che invece aveva già fissato l'udienza per venerdì per ridiscutere con una composizione diversa il format del campionato. Lo stesso Frattini è stato quindi indotto a fissare la nuova udienza per il 28 settembre, giorno in cui forse si dovrebbe mettere la parola fine a questa vergognosa pagina della storia del calcio italiano. Rimangono quindi rinviate le partite tra cui Arezzo-Provercelli, prevista inizialmente per domenica prossima dal momento che la Provercelli è una delle società che ambisce al ripescaggio. Il 28 settembre saremo alle porte di un'altra giornata e dunque salteranno altre gare e rimane in forte dubbio anche sia in Arezzo del 7 ottobre, comunque vadano le cose. L'Arezzo tornare in campo martedì sera all'Arena Garibaldi di Pisa alle 20.30. Non c'è ancora l'ok della Lega ma le società si sono messe d'accordo visto che non è stato possibile anticipare a domenica per la concomitanza quella seconda giornata di campionato.